Torna all'attacco il comitato Sagre di Arezzo e lo fa ad oltre un anno di distanza dall'entrata in vigore del regolamento fissato dall'amministrazione comunale Aretina per quel che riguarda durata, numero di sagre, feste paesane e soprattutto i tanto discussi menu. Per noi sarebbe facile chiedere nuove agevolazioni o comunque che ci venga considerato quello che abbiamo sempre chiesto in quest'ultimo anno e mezzo. Invece no, provocatoriamente e probabilmente anche contro una fetta dei miei associati chiediamo a questo punto, vendiamo pubblico quello che abbiamo chiesto al sindaco e all'assessore al commercio oltre un mese fa senza avere peraltro alcuna risposta ad oggi. Abbiamo chiesto al sindaco e all'assessore di avere il coraggio di regolamentare un settore intero piuttosto che tenere nella morsa solamente noi e permettere ad altre manifestazioni ed eventi che comunque sia riguardano una ristorazione non professionale di poter usufruire di una libertà tale che gli permetta di organizzare feste della durata di 13 giorni e addirittura in alcuni casi di avere dalla giunta comunale l'allacciamento alla corrente elettrica a titolo gratuito. Dal comitato arriva così la proposta di trasformare la commissione sagre in tavolo della somministrazione non professionale che includa dunque anche la vita dei quartieri della Giostra e tutte le altre manifestazioni.